Odori naso e abbondi e scorribande di talpe e ratti lungo il corso d'acqua e nelle strade adiecenti vicino ai palazzi. E' quanto viene denunciato da Alberto Vivarelli, punto di riferimento ormai attraverso la sua pagina Facebook, di gran parte dei cittadini della città termale per la denuncia di situazioni di degrado e di sporcizia. Una di queste è quanto alcuni residenti di Via Umbria e Via Lucchesi stanno constatando da alcuni giorni, con l'arrivo del caldo intenso lungo uno dei fossi che attraversa Monte Catini, in particolare quando arriva scoperto nella zona sud. L'acqua, quasi completamente ferma, favorisce il ristagno e la formazione di alghe ed erbe che inevitabilmente al calore del sole deperiscono e degradano, così da provocare forti cattivi odori e la presenza di grossi roditori. Non è una situazione concepibile ed accettabile, perché questa è una zona molto popolata da famiglie e dove ci sono anche dei bambini che giocano. Su cosa sei intervenuto? Questa mattina la prima cosa che ho fatto è che ho mandato un'email al consorzio illustrandogli la problematica di questa zona, di questo corso d'acqua che sta portando ai residenti della zona, chiedendogli un intervento molto celere e repentino. Che risposta vi aspettate? Diciamo la risposta che ci aspettiamo è intanto una risposta alle mail che prendono in carico la nostra segnalazione, quindi questo è già un buon inizio e un intervento ora, come hanno fatto anni indietro, di ripulitura del corso d'acqua. Alcuni residenti mi hanno detto che anni fa hanno fecero un intervento con un trattore cingolato per rimuovere la terra e far difluire meglio l'acqua, però quello che hanno detto erano soddisfatti perché il problema venne risolto. Quindi mi auspico, ci auspichiamo tutti che venga presa in carica la segnalazione e venga risolto questo problema.